Il bendaggio con giri a forma di 8 si usa per coprire le articolazioni in modo tale da immobilizzarle. Cominciate tenendo la benda con la mano dominante, con il pollice rivolto verso l'estremità libera del rotolo. Effettuate uno o due giri circolari. Portate la benda sopra l'articolazione, intorno ad essa e poi sotto di essa, come a disegnare un 8. Soprapponete ogni strato al precedente per metà o due terzi della larghezza della benda. Continuate ad avvolgere la benda sopra, intorno e sotto l'articolazione. Mentre srotolate la benda, tenetela leggermente in modo che sia ferma ma non stretta. Terminate il bendaggio sopra l'articolazione e fissate l'estremità della benda con delle graffette. Attaccate un pezzo di nastro adesivo sulla graffetta. Valutate sempre lo stato neurovascolare distalmente al bendaggio dopo aver applicato la benda. No, you can wiggle your toes, okay? Good. Sometimes the wraps get wrapped just a little tight or your foot swells after the wrap goes on. So you let me know if you have any numbness or tingling or your toes start to feel cold and they haven't. Okay. Okay, good. That's it.